Oh, questa è la famosa torre di Pisa. Muy inclinata. Ci sono 294 scalini. Muy faticoso. Saliamo. Su, vi verrà offerto da bere. Bienvenido. Pedro, esto es estate. Seguro, es estate. Si sente quando è estate, perché ha un gusto irresistibile. Me gusta la vista? Me gusta, me gusta. Si sente quando è estate. Grazie.